Da Montopoli e Farasabina Rieti per protestare contro l'apertura della centrale a biomasse dell'azienda Capitolina Convent che si dovrebbe costruire a confine tra i due comuni. Il parere definitivo alla costruzione della centrale dovrebbe arrivare nella giornata di oggi dalla conferenza dei servizi convocata nella sede dell'amministrazione provinciale in via Salaria per l'Aquila. La protesta è stata portata nel cavoluogo da cittadini e rappresentanti dei due comuni che si sono riuniti in piazza del comune per poi raggiungere in corteo la sede del consiglio provinciale una presenza voluta per sollecitare gli amministratori provinciali a mantenere l'impegno assunto nei loro confronti quello di impedire la costruzione dell'impianto. Una decisione richiesta dal comitato dei cittadini area DOP Biomasse Stop costituito da abitanti e amministratori di quell'area della Sabina il quale ha evidenziato che nella relazione tecnica del progetto non è previsto alcun sistema di redistribuzione o teleriscaldamento sul territorio altro elemento negativo è rappresentato dal fatto che parte del materiale da incenerire arriverà oltre che dalla Sabina da altre aree della regione procurando in quella zona nuova e più pesante i problemi al traffico oltre che un sensibile aumento dell'inquinamento causato dagli stessi mezzi di trasporto dei materiali da incenerire.